La giunta comunale guidata dal sindaco Manfredi ha approvato il progetto in gara nelle prossime settimane per la revisione ventennale della funicolare di Chiaia, un intervento per legge obbligatorio e necessario di manutenzione dell'impianto che è stato il primo tra i quattro esistenti in città ad entrare in funzione nel 1889. Abbiamo dovuto trovare delle risorse ad hoc rimodulando un mutuo con la BEI per destinarlo a questo intervento, è stato rivisto completamente il progetto, è stato fatto un intervento anche di asseverazione, quindi di certificazione dei prezzi perché stiamo in una fase di mercato molto variabile, quindi già noi ci sono state due gare che sono andate deserte, una procedura negoziale pure fallita. Chiusa ad ottobre scorso al termine di successive proroghe non più consentite, la funicolare di Chiaia serve quotidianamente 15.000 utenti tra via Cimarosa al Vomero ed il quartiere Chiaia e si appresta a riaprire in sicurezza grazie all'impegno che l'amministrazione comunale e i DNM stanno portando avanti in questi mesi. Si riavvia il percorso per finalmente riuscire a mettere in sicurezza la funicolare, riottenere l'autorizzazione del Ministero all'esercizio e quindi riaprirla. Dopo l'aggiornamento economico del progetto, secondo le condizioni del mercato e gli interventi normativi sul caro prezzi, sono state individuate nel nuovo appalto le sole opere elettromeccaniche utili alla revisione e reperite le risorse necessarie attraverso la Banca Europea e Investimenti. L'importo è stato, sia la parte tecnica che la parte finanziaria, sono stati certificati da una società indipendente. Questa garanzia pubblica che la somma sia corretta e che il progetto sia fatto bene, ma anche garanzia degli imprenditori che vorranno partecipare, che troveranno prezzi giusti nonostante gli aumenti dei costi connessi alla guerra e tutto quello che è accaduto. Noi, i conti ci portano a dire che a inizio 2024 potremmo riavere la funicolare aperta, di meno solo se ci verificheranno una serie di condizioni. Nel frattempo i 15.000 utenti si ripartiscono circa 4.500 nelle navette, circa 10.500 stanno utilizzando la funicolare centrale. Sul fronte dei trasporti il sindaco Manfredi ha poi annunciato a partire da lunedì la riapertura dell'uscita salvatorrosa della linea 1 metropolitana chiusa da tempo.